Il 2023 la possibile ripresa economica in Sicilia, questo è il dato ovviamente parziale presentato da Union Camere Sicilia. Nel terzo semestre di quest'anno le imprese attive erano 382.764 in forte aumento, più 34.079 rispetto alle 348.685 del terzo trimestre del 2022. Il trend favorevole ha fatto sì che, mettendo a confronto i due periodi da un saldo negativo fra iscrizioni e cessazioni di meno 437 imprese all'uglio-settembre 2022, si sia passato a un saldo positivo di più 687 aziende. La ripresa delle attività economiche ha prodotto anche un significativo aumento dei posti di lavoro, più 14.958, facendogli evitare il numero di occupati da 1.166.652 a 1.181.610 unità. In questo scenario particolarmente dinamico si inserisce il progetto di Union Camere Sicilia, competenze per le imprese, orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro, finanziato dal Fondo di Perequazione 2021-2022 di Union Camere Nazionale, con il quale il sistema camerale siciliano è pronto a sostenere tutti coloro che aspirano a trovare uno sbocco di lavoro, aiutandole a diventare imprenditori. Il progetto, infatti, offre informazioni di tipo amministrativo, organizzativo e di prima valutazione sull'idea di impresa e si propone di diventare un punto di riferimento per chi ha un'idea imprenditoriale che vorrebbe realizzare e fornendo anche notizie sulle agevolazioni per l'auto-imprenditorialità.